Se il controverso Palais Lumière dello stilista Pierre Cardin si farà, saranno 50 le fornaci del consorzio Promo Vetro di Murano a fornire le lampade d'arredo. L'impegno è stato firmato ieri al Teatro La Fenice. Per il vetro veneziano, minacciato da una pesante crisi, sarebbe un affare da 20-25 milioni di euro. Con questa alleanza con i vetrai di Murano cercate una sponda per vincere le resistenze che sono altrettanto forti a questo progetto. I tempi sarebbero brevi. Se si deve partire a luglio con la decisione finale avremmo neanche due anni. Si può fare, perché il progetto è già avanzato, potremmo di fatto partire da subito. L'opera in sé prevede un anno e mezzo di costruzione. Parlo dell'esterno, dell'involucro e di tutto ciò che le opere primarie, ciò che serve per poterlo inaugurare. Dopodiché all'interno è chiaro che finiremo con più calma l'anno 2016, però potrà essere già attivo e funzionale nelle parti comuni. Quegli 40 milioni famosi di cui si parlava, arriverebbero presto nelle casse del comune se il progetto va avanti? Si fa un preliminare, si dà una capare normalmente come tutti. Nessuno al mondo prenderebbe e comprerebbe dei terreni così, pagandolo dieci volte tanto senza poterci far niente sopra. La proposta potrebbe essere, sarebbe senz'altro vantaggiosa per il consorzio, lo sarebbe anche per Venezia nel suo complesso? Io so solo che un'opera del genere, una cosa del genere per Murano sarebbe veramente un'occasione unica. Stiamo parlando di una commessa veramente importante, come forse poche volte nella sua storia Murano ha potuto ottenere, ha potuto avere e che andrebbe a cadere a pioggia e anche diffusamente su tutte le aziende marchiate col marchio vetro artistico di Murano. Quindi io reputo che questa sia un'occasione che Murano non poteva assolutamente perdere, non poteva assolutamente. E noi abbiamo giocato sicuramente di anticipo. Adesso agli altri player dirci se la cosa potrà andare avanti o no.